Musica Cari telespettatori bentornati al nostro tradizionale appuntamento con Via Roma 39 abbiamo saltato una settimana, c'erano degli impegni per quanto riguardava le nostre istituzioni erano i giorni del 24-25 aprile, tra l'altro abbiamo visto il nostro sindaco sul campo da calcio del Martelli magari poi ci faremmo dire qualcosa ma se vi ricordate noi martedì sera abbiamo proposto il sondaggio sulle elezioni amministrative quindi sondaggio che ci ha dato un po' un'idea del voto mantovano in vista del 15 e 16 maggio prossimi allora come al solito un bentornato al sindaco di Mantova Nicola Sodano grazie un saluto a lei e a tutti i telespettatori allora signor sindaco proprio una battuta visto che non abbiamo avuto occasione di parlare con lei in questo studio dopo questa partita questa partita tra l'altro con uno scopo molto importante, uno scopo benefico per i villaggi SOS allora come si è trovato nel ruolo di centrocampista? centrocampista e regista eh sì mi sono trovato bene nei primi 15-20 minuti quando non solo c'era il fiato ma quando ancora dovevano capire che era un po' pericoloso dopo hanno messo quel ragazzino di 18 anni di X Factor su di me e allora non c'è stato più niente da fare anzi mi ha dato un pestone che mi fa ancora male dopo un bel po' di giorni comunque ecco siccome oggi tra l'altro parliamo di una Mantova a misura di visitatore quindi le iniziative e il progetti lei ha già detto che ci terrebbe che questa iniziativa quindi con la Nazionale Cantante queste partite di solidarietà vengono ripetute anche in futuro sì la Nazionale Cantanti è la nazionale che è in grado di accogliere l'entusiasmo di tanta gente è molto ricercata per cui sarebbe un onore averla con noi una volta ogni due anni però già con l'assessore Tonghini stiamo parlando visto il gradimento di questa iniziativa per farne un paio all'anno magari con altre nazionali sempre di livello nazionale perché lei sa che c'è la Nazionale dei giornalisti, la Nazionale dei giudici anche quella dei sindaci la Nazionale dei sindaci a questo punto immagino che lei avrà chiesto di farne parte beh io però nel caso verrà qui a Mantova io continuerò a capitanare la Mantova All Stars ho capito bene chiusa questa parentesi è molto simpatica allora signor sindaco una Mantova più a misura di visitatore le opportunità, le iniziative potrebbero essere tante partiamo proprio dal visitatore in senso più classico quindi il turista ecco le chiedo da tantissimo tempo si parla del famoso progetto del biglietto unico a Mantova tra i musei biglietto che dovrebbe includere anche Palazzo Ducale l'ingresso a Palazzo Ducale anche perché ovviamente è il nostro monumento più visto a che punto siamo con questa iniziativa? guardi siamo a buon punto grazie alla disponibilità innanzitutto del sovrintendente Cascio col quale c'è un ottimo rapporto per cui il nostro assessorato e mi riferisco all'assessore Chizzini con chi collabora con me alla cultura quindi il consigliere Italo Scaietta e il consigliere Pietro Ferrazzi e con una spinta iniziale che è stata data anche in consiglio comunale dal consigliere Rocco Linardi siamo partiti in tromba come se così possiamo dire verso questa iniziativa stiamo lavorando e spero entro il 2011 di riuscire a ultimare questo progetto ecco ci saranno tutti i musei quindi della città ecco qui si sta discutendo ovviamente noi mettiamo la disponibilità ovviamente dei musei del comune c'è la disponibilità dei musei che dipendono dallo Stato però il progetto è in corso di definizione perché la gestione deve rispettare determinati parametri tecnici ecco signor Sindaco tra le mail che ci sono arrivate anche in passato e soprattutto nel periodo di Pasqua alcuni turisti lamentano a Mantua la mancanza diciamo di una correlazione con i mezzi pubblici quindi tra gli alberghi, i musei, il mezzo pubblico il fatto che non esista chiamiamola così una sorta di carta del turista e magari uno la prende quella per un giorno, per due giorni, per tre giorni e prendendo questa carta poi ha accesso sia ai mezzi pubblici che anche ai musei o alle altre strutture guardi proprio pochi giorni fa ho ricevuto una delegazione significativa degli albergatori mantovani che sono venuti dal Sindaco con spirito molto costruttivo e quindi li ringrazio pubblicamente per questo la nostra città ha delle presenze settoriali che si interessano di turismo c'è bisogno di implementare la messa in rete di tutti questi vari servizi sia per legare anche le attività che il comune promuove o sostiene con la possibilità di creare anche pacchetti turistici quindi la possibilità agli albergatori mantovani e comunque al mondo alberghiero mantovano di offrire una permanenza a Mantua non solo per vedere le bellezze storico-artistiche di questa splendida città ma anche per legarla ad eventi culturali naturalmente la questione del trasporto pubblico è una questione che oggi si scontra con i gravissimi tagli che il trasporto pubblico è costretto a sopportare lei sa che l'azienda APAM è un'azienda di livello provinciale quindi c'è la necessità di garantire il servizio su tutti i segmenti della provincia ciò nonostante dal punto di vista del traffico urbano grazie alla grande disponibilità dell'azienda di trasporto mantovano stiamo implementando per quanto possibile soprattutto per quel che riguarda il legame dei quartieri con la città vi è un collegamento fra Mantua e Sabionetta che è quello storicamente dal punto di vista culturale più importante che è stato istituito da poco ed implementato da poco o si tratterà di pubblicizzarlo sì, forse ecco proprio farli conoscere di più anche questi però vi è anche da dire che vi è una volontà delle persone che vengono a Mantua non vi è una grande predisposizione a prendere il mezzo pubblico le faccio un esempio noi abbiamo fatto proprio quest'inverno l'esperimento del pollicino durante le festività natalizie per un mese due pollicini hanno girato in tutti gli orari ma non c'è la forma mentis quindi molti preferiscono girare a piedi arrivano in macchina e preferiscono girare a piedi certo ecco sempre per quanto riguarda il turismo ma parliamo anche quindi di visitatori che arrivano dalle zone magari vicine ovviamente una città più ha iniziative più conta ovviamente progetti, iniziative, manifestazioni più diventa in qualche modo attraente ecco lei aveva detto le faccio un annuncio allora ne approfitto ok ne approfitto perché dopo l'esperienza di Mantua a mille luci nel mese di maggio presenteremo il cartellone di Mantua estate o estate a Mantua il nome è ancora in corso di definizione diventerà poi una tradizione della nostra amministrazione prevede una serie di iniziative che cominceranno i primi giorni di giugno sino alla fine di settembre quindi un'estate veramente allungata quindi non i tre mesi della stagione estiva ma i quattro mesi da giugno a settembre con iniziative per le quali ve ne sarà una al giorno ci sarà un'iniziativa culturale al giorno quindi più di 100 iniziative quasi 120 iniziative che spazieranno sotto diversi filoni argomenti quindi vi saranno momenti da dedicare alla canzone momenti da dedicare al melodrama momenti teatrali momenti di danza momenti da dedicare ai bambini momenti anche da dedicare all'approfondimento storico quindi un'iniziativa al giorno con almeno una trentina iniziative di grande qualità teniamo un pochino in riservo sarà presentato comunque entro il mese di maggio questo cartellone di Mantua Estate saranno prodotti molti molti esemplari di questi delle brochure saranno a disposizione non solo dei mantovani ma li metteremo per esempio in molti punti del lago di Garda li metteremo all'aeroporto Catullo li metteremo a Fashion District insomma tutte iniziative che porteranno a incentivare la venuta di gente a Mantua c'è anche da dire che il nome di Mantua in questi mesi sta girando molto per via del Rigoletto per via di tante iniziative di carattere nazionale pensi a L'Ansa che ha diffuso la notizia della nostra mostra sulla Callas per cui l'altro giorno siamo stati su tutti i quotidiani nazionali tra l'altro come lei ha citato il Rigoletto, il melodrama adesso c'è questa mostra sulla Callas è un filone su cui puntate quello proprio del recupero della musica lirica guardi io ho detto durante i giorni del Rigoletto in molte occasioni però è passato molto tempo quindi per cui magari la gente l'ha anche dimenticato che c'è con il ritorno con la grande manifestazione del Rigoletto c'è una via della musica a Mantua che non si è mai interrotta e che va valorizzata noi come amministrazione non solo sosteniamo abbiamo sostenuto iniziative come queste però manifestiamo la nostra vicinanza al Conservatorio Mantovano e soprattutto patrociniamo o contribuiamo a tutta quella miriade di manifestazioni che hanno un legame con la musica che si svolgono nei nostri teatri e che caratterizzeranno anche l'estate mantovana quindi c'è una via della musica mantovana che per quel che riguarda noi vogliamo portare avanti valorizzando anche i talenti locali con iniziative che costeranno molto poco però sarà un'occasione per valorizzare i talenti locali Ecco, signor Sida, l'abbiamo vista nelle scorse settimane incontrare le organizzazioni di categoria anche proprio per cercare di attuare un restyling sul fronte dell'arredo urbano avete parlato con la Confesercenti per quanto riguarda le bancarelle come potranno essere così anche questo ovviamente fa parte di una città più a misura di visitatore quali sono i progetti in campo? Guardi, io ho detto loro quello che dico ora a lei e ai telespettatori noi stiamo redigendo due strumenti fondamentali che detteranno le linee per questo segmento dell'abbellimento in città e mi riferisco al piano di governo del territorio che vede come momento integrante anche gli strumenti che si riferiscono all'arredo urbano nel suo complesso e poi abbiamo, siccome siamo un sito UNESCO abbiamo il cosiddetto piano di gestione che dobbiamo aggiornare redigere o quantomeno aggiornare per quel che riguarda tutta l'area delimitata dalla zona UNESCO sono lavori, su queste cose ci sono lavori in corso io ho detto che l'obiettivo mio è quello di riuscire ad approvare il piano di governo del territorio che ricomprende questi strumenti fra cui tutte le tematiche che riguardano l'arredo urbano entro l'anno nel mentre possiamo fare delle cose molto semplici per esempio l'organizzazione di categorie che lei citava ci ha fatto una proposta interessante che è quella di fare un po' uno scambio cioè il comune promette e garantisce uno sgravio per esempio sulla tassa di occupazione del suolo e gli esercenti sono disponibili a realizzare diciamo così tutta quella parte di attività che si svolge sulle pubbliche vie secondo un progetto condiviso i lavori sono in corso lo so che sembra di essere in arretrato su tutto però insomma siamo qui da un anno stiamo cercando di fare le cose una volta quindi ad esempio ci sarà una ristrutturazione una riqualificazione proprio anche dei banchi esatto troveremo cose diverse troveremo cose diverse ci vorrà del tempo ma io penso che ci adopereremo per accelerare il più possibile la realizzazione di queste misure a proposito di red urbano signor sindaco c'è chi lamenta che in città i visitatori non sanno dove riposarsi e dove sedere effettivamente è vero la nostra città non ha molte panchine mancano anche tante altre cose mancano anche i servizi igienici per esempio era la domanda successiva sì infatti con l'avanzo di amministrazione abbiamo intenzione di individuare una somma necessaria per affrontare questo problema per esempio dei servizi igienici che ormai si presenta in forma molto pressante anche perché non so se lei ha notato ma quantomeno da Natale ad oggi la quantità di gente che viene a Mantua è molto aumentata avete anche dei dati a supporto dunque noi abbiamo dei dati non positivi e così ci conferma l'associazione di categoria per quel tipo di turismo che si ferma qui la notte e quindi insomma dà l'idea che c'è qualcosa da fare mentre invece per il turismo mordi e fuggi come viene chiamato quindi il turismo giornaliero vi è un incremento veramente notevole perché la città non è mai stata piena di gente come in questi periodi insomma ecco e per fare in modo che la gente si fermi anche la notte quindi rimanga almeno un paio di giorni noi stiamo lavorando su tre fronti allora un fronte quello che le accennavo prima che era quello che è quello del campeggio per camper che è già una conquista notevole perché abbiamo realizzato una struttura che è all'avanguardia in tutto il territorio provinciale e l'associazione dei camperisti ci dice che è una delle più belle del nord Italia addirittura poi stiamo iniziando un'attività di controllo per quel che riguarda i bed and breathcast siccome vi è una legislazione nazionale diciamo così con delle maglie molto libere molto molto leggere questo alcune volte va a discapito della qualità soprattutto di coloro che di quegli esercenti che magari con molto zelo garantiscono una grande qualità quindi l'intenzione mia è di garantire di costituire una sorta di marchio mantova per i bed and breakfast di qualità mantovani da pubblicizzare anche sui nostri siti e poi sul fronte alberghiero non dobbiamo dimenticare che oltre agli alberghi che già ci sono che hanno che potranno implementare la presenza se partirà questo lavoro questa sorta di cabina di energia che abbiamo intenzione di fare fra comune gli assessorati inteso come assessorato al turismo assessorato alla cultura assessorato ai grandi eventi e gli albergatori però a mantova mancano i cosiddetti grandi alberghi per segnalo che però noi abbiamo avviato abbiamo sbloccato la questione di piazzale Mondadori dove i lavori sono in corso dove lì è prevista anche la realizzazione di una struttura alberghiera significativa abbiamo sbloccato un piano attuativo per cui ci sarà la realizzazione di un grande albergo nell'ex Butangas tanto per intenderci qui sulla strada legnagese tanto per intenderci quindi insomma abbiamo sbloccato questa abbiamo fatto partire il treno per la realizzazione di queste grosse strutture perché proprio chi si occupa di incoming lamenta il fatto che le grandi uturo per eto le grandi organizzazioni non riescono ad esempio a mettere in un solo albergo un intero charter le dirò questo noi abbiamo una grande tradizione convegnistica però le grosse associazioni o le grosse aggregazioni che organizzano questi convegni vengono a Manto in questa città meravigliosa in questa città dove hanno la possibilità o il teatro Bibiena o il teatro sociale o in altri spazi importanti di realizzare il proprio convegno però sono costretti ad andare a dormire fuori perché hanno l'abitudine perché hanno l'abitudine o la comodità devono avere la comodità di poter dormire tutti insieme in un unico albergo qui siamo carenti dobbiamo attrezzarci anche perché abbiamo intenzione di far diventare Manto la sede stabile di alcune iniziative le do anche un'altra primizia stiamo per concordare per fissare il fatto che la città di Manto dopo la bella esperienza dell'anno scorso a partire di quest'anno dovrebbe diventare per un bel po' di anni sede stabile del cinema ad essai questa rassegna nazionale per operatori che quest'anno abbiamo intenzione di fare aprendola anche alla città quando sarà? mi pare nel mese di ottobre non vorrei sbagliare ma penso sia nel mese di ottobre signor sindaco una una questione anche questo un capitolo lunghissimo per Manto alla mancanza di un ostello si sente so che ci sono diversi progetti si parlava della scuola l'ex scuola Bettinelli poi si sono individuate anche altre strutture come vi state muovendo? ci stiamo muovendo che abbiamo alcune proposte concrete di realizzazione che sta seguendo il nostro sessorato alle opere pubbliche e contiamo di concludere la riflessione a breve ecco perché ovviamente anche questo penso che si senta noi abbiamo già anche lo studentato che è stato realizzato siccome è uno studentato che ha dei numeri poco non tutti i posti sono coperti quindi abbiamo lascia spazio anche ad altre ospitalità perché noi abbiamo un tipo di università con un'utenza prevalentemente mantovano comunque di gente nei dintorni per cui ecco questa residenza universitaria quindi anche l'ostello troverà sicuramente motivo di essere soprattutto con il rilancio che stiamo dando dell'università con questo discorso dell'internazionalizzazione o comunque con la volontà di creare un corso unico di nicchia nel panorama universitario nazionale ed europeo per cui vi sarà gente che verrà da fuori questo appunto sui siti UNESCO dovrebbe essere legato ai siti UNESCO ecco signor sindaco senza neanche farlo opposta lei ha parlato di università e possiamo già anticipare ai nostri telespettatori che proprio l'università sarà il tema della nostra prossima puntata di via roma 39 peraltro a giorni ci sarà un altro incontro importante per quanto riguarda l'università di pavia con la quale però sembra che molti dei problemi siano stati superati quantomeno questa è la sensazione che è stata data in quello che è stato l'ultimo incontro bene allora signor sindaco noi aspettiamo a questo punto il cartellone di mantova estate sperando che possa rilanciare ulteriormente la nostra città ovviamente grazie per queste sue riflessioni e per averci fatto conoscere anche tutti questi progetti che non di cui non eravamo a conoscenza ovviamente e quindi anche i nostri telespettatori per quanto riguarda proprio l'accoglienza a mantova un settore che penso sia davvero importante per la nostra economia allora noi ci vediamo qui tra sette giorni con l'università e quindi capiremo proprio quali saranno i progetti di sviluppo di potenziamento del nostro Ateneo grazie ancora al sindaco sodano grazie a lei e un saluto a tutti grazie a tutti